Sarà intitolato a Biagio Manganelli il molo di sottoflutto del porto turistico della città di Agropoli. Il giovane Biagio morì il 20 luglio nel 2019 in seguito ad una tragica fatalità alla tenera età di 16 anni. In tanti lo ricordano per il suo sorriso il carattere gioviale e la sua passione per la vela. Era timoniere laser e punto di riferimento per giovani iscritti alla Lega Navale di Agropoli, ragazzo sempre pronto ad aiutare il prossimo e di una maturità intellettuale tale da sembrare molto più grande della sua giovane età. Creativo, talentuoso, amante della poesia, dell'arte e della scienza, oltre che appassionato di musica come testimoni alla sua partecipazione come batterista e percussionista nell'orchestra del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli, un gesto importante da parte di tutta la giunta comunale agropolese per rendere onore ad un figlio di Agropoli strappato alla vita troppo presto. L'intenzione dell'amministrazione comunale, come si legge nella delibera di giunta, è quella di denominare le nuove aree di circolazione, i parchi, le aree verdi, i giardini, le scuole, i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici, le aree portuali di rilevante e sociale utilità legando alla nuova toponomastica fatti, personaggi, personalità ed avvenimenti sociali della storia cittadina.